Cercate l'Europa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app Disponibile per tutti gli utenti Android e Apple Ti aspettiamo In primo piano questa brutta vicenda che coinvolge un giudice Ebbene il Consiglio Superiore della Magistratura ha disposto la sospensione dalle funzioni e dallo stipendio E' collocato fuori dall'organico della magistratura il giudice Amato indagato per pedopornografia a Messina E' coinvolto in una nuova inchiesta, i particolari nel servizio E' coinvolto anche Gaetano Maria Amato, 58 anni, magistrato della Corte d'Appello di Reggio Calabria Nell'inchiesta Black Shadow che ha svelato una rete di pedofili che si scambiava materiale pedopornografico su internet Utilizzando il servizio di instant messaging criptato di un notissimo applicativo ritenuto riservato e sicuro Sono 10 le persone arrestate, 47 le perquisizioni eseguite e ingente in materiale pedopornografico Sequestrato nel corso dell'operazione condotta dalla Polizia Postale di Bolzano Le indagini, coordinate dal PM trentino Davide Ognibene, sono iniziate circa un anno e mezzo fa Dall'analisi del PC di un uomo di 40 anni, altoatesino, residente in Val Pusteria Quello di Trento non è l'unico procedimento che in guai Amato Sarebbero infatti due indagini parallele, quelle condotte dalle procure della Repubblica di Trento e Messina Che vedono coinvolto il magistrato per vicende legate alla pedopornografia Amato è stato arrestato dalla Polizia di Messina il 2 ottobre scorso Su provvedimento del GIP nell'ambito di un'inchiesta coordinata dal procuratore messinese e Maurizio De Lucia A magistrato in quel caso è stato contestato il reato di pornografia minorile L'indagine alla procura di Trento riguarda invece una presunta rete di pedofili Dedita allo scambio di immagini online In questo contesto il magistrato è indagato proprio per un presunto scambio materiale pedopornografico Non è da escludere che le due indagini, nate separatamente, abbiano avuto alcuni punti di contatto Cercatele Europa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app Disponibile per tutti gli utenti Android e Apple Ti aspettiamo!